C'è chi un giorno invece ha sofferto, e allora ha detto io parto, ma dove vado se parto, sempre ammesso che parto. E la vita la vita, e la vita l'è vera, l'è vera, a scopere l'opera, l'opera, si ripara la testa, sempre un giorno di festa. Agli amici del web e a quelli di OndaDV, buonasera, oggi parliamo del tartufo bianco di Ivo Pignatelli, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito, buonasera. Salve, buonasera, allora, di certo si parla di tartufo bianco, perché questo è il periodo del tartufo bianco, ma di certo si lavorano tutte le tipologie di tartufo, quindi da partire dal tartufo nero estivo, al tartufo nero pregiato, al tartufo bianco, al tartufo bianchetto, perché comunque siamo ubicati in una zona che fortunatamente è al centro di un bacino che è ricca di tutte le tipologie di tartufo nella nostra zona. Questo territorio è una grande vocazione che vi permette poi di esercitare con assuridità questo lavoro, anche di coltivare il tartufo, un'attività questa che affonda le radici nella storia. Da quanto tempo voi siete presenti sul territorio? Allora, io sono presente nel territorio, mio nonno era un cercatore di tartufi, quindi io appartengo alla terza generazione, con le mani in pasta dal punto di vista del tartufo. Anche se, ecco, mio nonno li andava a cercare, ma sono io quello che ha cominciato la commercializzazione e la trasformazione del prodotto, proprio dichiarandolo come prodotto abruzzese. Questo non toglie che ho avuto molte difficoltà nell'impormi sul mercato, perché comunque basti pensare 20 anni fa e dire questo è il tartufo nero abruzzese o questo è il tartufo bianco che viene dall'Abruzzo, ero guardato con un occhio un attimino da truffaldino. Sicuramente il mercato si è evoluto e si è trasformato lungo il tempo, quindi come qualche anno fa il tartufo entrava nel mercato e oggi invece quali ostacoli deve superare e affrontare? Deve superare nel far capire che noi abbiamo un prodotto che non ha nulla da invidiare ad altre regioni, anzi, a livello sia olfattivo che di sapore, che di maturazione e che proprio a livello di prodotto oserei dire che è un prodotto eccezionale. La cosa che ultimamente c'è, che non è stato valorizzato negli anni, ma si sta valorizzando ultimamente. Basti pensare che come produzione del tartufo nero oserei dire che l'Abruzzo produce oltre il 70% della produzione nazionale, che però poi viene immessa in altri mercati, in altre regioni e purtroppo viene spacciata per prodotto di altre regioni. Se questo è un prodotto originale che appartiene alla terra e spesso non sappiamo, o meglio, il mercato non ci fa imporre un marchio sui prodotti di qualità che escono da questo territorio. Il discorso è anche un altro che ultimamente con il discorso della tracciabilità e quindi fortunatamente dover mettere sul vaso la zona di raccolta si riesce ad essere un attimino tutelati, però si fa del meglio per farlo conoscere come prodotto locale. Il tartufo è un prodotto che esprime un grande potenziale dal punto di vista culinario perché condisce le molteplici ricette tradizionali della cucina regionale e quindi si può mettere davvero su tutto, accompagna anche la vita dell'uomo a volte nei suoi gusti. Togliersi uno sfizio, un gusto così che a volte uno pensa al tartufo che possa costare troppo o molto, ma nella realtà non è così perché basti pensare che per condire un piatto, un primo piatto, ne bastano pochi grammi e quindi il rapporto, quindi il valore aggiunto che si va a mettere su un piatto con il tartufo a volte è inferiore a un primo piatto fatto con del buon ragù. Ivo e il tartufo ormai sono associati perché diciamo una vita spesa con questo prodotto, con la sua produzione e coltivazione, come organizzi la tua giornata a contatto con il tartufo? La mia giornata a volte non ha inizio e non ha fine perché l'imprevisto è, oserei dire, sempre dietro l'angolo, quindi con il tartufo oserei dire che è come correre in borsa perché si hanno delle impennate di prezzo, si hanno delle scese di prezzo e c'è il raccoglitore che a volte trova una pallina bella di tartufo bianco e quindi tocca correre sul lato opposto di dove si è per accaparrarsi il tartufo, quindi non si attregua, specialmente in questo periodo che c'è il tartufo bianco. La giornata prevalentemente, ecco, si comincia dalla mattina presto nella selezione, nella cernita dei tartufi per poi fare la lavorazione del prodotto stesso. La cernita del prodotto è importante perché si va a selezionare il prodotto che ha un grado di maturazione, direi, al top per lavorarlo subito per far mantenere la fragranza del prodotto anche sotto vetro, quindi in vaso. Sì, i connotati del tartufo li conosciamo, abbiamo detto che forse possiamo azzardare e dire che è un prodotto che risente più degli altri, delle oscillazioni del mercato. Tornando invece al gusto del tartufo, forse il sapore è questo connotato che più attira, diciamo, il palato dei buon gustai. Sì, attira il palato dei buon gustai. Il sapore e anche l'odore. Anche l'odore, ci sono diversi modi per cucinare questo prodotto. Io raccomando sempre la semplicità nel cucinarlo, per non alterare il sapore e il profumo del prodotto medesimo. E poi si può anche contaminare, quindi bisogna stare attenti. Si può contaminare, ma più che altro avvicinarlo a altri gusti o altre, praticamente a volte si va a sovrastare quello che è il sapore e il profumo del tartufo. Quindi, ad esempio, se si va a fare un primo piatto con il tartufo e uno va ad addizionarlo con del pecorino, con del formaggio, eccedendone, ecco, va a coprire il sapore del tartufo o delle spezie. Quindi non si ha più quel sapore delicato, quel sapore particolare del tartufo, ma al palato, ecco, viene sovraffatto da altri sapori. E se in cucina noi sappiamo che il problema più grande è proprio il contrasto dei sapori e la bellezza del tartufo e la sua originalità, la sua genuinità. Ma io direi che è il momento di svelare l'arcano, siamo in questo laboratorio storico, antico, Pignatello, vediamo un po' le fasi della lavorazione del tartufo, dalla cernita a tutti gli step della produzione. Allora, ecco, il tartufo viene acquistato, dopodiché viene selezionato per grande rendezza, per forma, per consistenza, per, diciamo così, per grado di maturazione. Dopodiché, in base alla tipologia di prodotto alla cernita, viene lavorato in modo diverso. Esempio, qui abbiamo il piccolo del tartufo bianco, cioè il pezzame, la scaglia, il tartufino intero. E che cosa andiamo a fare? Ecco, con i pezzetti, naturalmente, si vanno a fare quelle che sono le creme o il tartufo macinato. Quindi viene selezionato, viene lavato, viene fatto asciugare, ricontrollato, per poi destinarlo alle creme o al 100% tartufo macinato. Mentre il tartufo intero o il grande del pezzo viene o fatto a fettine nel vaso, o viene venduto come pezzo di tartufo nella ristorazione che vuole risparmiare sul costo. Mentre il tartufo scelto bello o viene venduto al ristorante d'élite che vuole fare scena o va addirittura a finire all'estero, viene venduto all'estero. Ora passiamo proprio alla produzione, credo che sono diverse fasi, no? La produzione, ecco, la produzione dipende da quello che si fa. Se si fa la fettina di tartufo, ecco, il tartufo viene lavato, fatto a fettine, viene fatto asciugare al punto giusto, dopodiché viene messo nel vaso e questo, per quanto riguarda le fettine o il tartufo intero, viene fatto manualmente, quindi pesato tartufino per tartufino e messo dentro il vasetto e viene messo in una soluzione o di olio o di salamoia per poi essere sterilizzato. Viene sterilizzato il prodotto a 118 gradi, a differenza della pastorizzazione che si aggira intorno ai 90 gradi. 118 gradi perché? Perché è la temperatura a cui resiste il batterio del botulino e quindi noi andiamo a sterilizzare il 99% di tutti i nostri prodotti. Quindi non andiamo ad acidificare il prodotto, quindi non andiamo a pastorizzare perché significherebbe trattarlo con aceto o aceto citrico e quindi andiamo a togliere quello che è il sapore naturale perché acidificare un prodotto o trattarlo con aceto citrico significa che andiamo ad alterare il pH del prodotto e quindi andiamo a cambiare il sapore del prodotto. Questo sarebbe un danno nella produzione perché il sapore è importante. Sì, sì, ma il sapore è importantissimo, ma non solo è importantissimo ma basta dire che il coefficiente di penetrazione del calore nel tartufo sembra un prodotto fragile ma nella realtà è come il fungo ha un coefficiente di penetrazione del calore che è molto alto e quindi se non si ha l'attrezzatura adeguata non si riesce a sterilizzare il prodotto e quindi poi si incombe ad avere problemi sul prodotto finito quindi le capsule che si gonfiano e il prodotto che inaccedisce quindi è tutta una serie di problematiche che chi lavora il prodotto chi ha a cuore fare prodotti alimentari ne tiene in conto e sta attento anche perché farsi rovinare una partita di vasi di tartufo significa buttare diversi migliaia di euro. Complessivamente quanto tempo richiede la produzione? Ma la produzione breve, semplice e tutto quando va bene richiede minimo 6 ore, 7 ore ma non tanto per la quantità ma per gli step di lavorazione che bisogna seguire con attrezzature adeguate anche con attrezzature adeguate ma il discorso che dietro un semplice vaso che uno può vedere dice ma c'è il tartufo messo dentro il vaso il tartufino sembrerebbe dice vabbè si lava il tartufo si mette dentro non è vero perché lo stesso tartufo purtroppo va preso 10 volte in mano perché va selezionato, va lavato, va ricontrollato poi viene messo nel vaso poi la manipolazione e la lavorazione è tanta è tanta perché non è un prodotto che purtroppo lo richiede. Chiudiamo con un monito sociale ma anche direi imprenditoriale secondo lei in questo momento come valorizzare i prodotti della terra che indubbiamente rappresentano una fonte di sviluppo e di ricchezza per il territorio in particolare il tartufo perché lei mi diceva che i prodotti e il tartufo soffre di questo protagonismo sul territorio a volte viene assorbito altrove viene assorbito altrove perché altrove magari c'è più cultura di mangiare quel prodotto in diversi giorni della settimana mentre da noi adesso comincia ad esserci l'usanza di mangiare la pizzetta al tartufo una pietanza al tartufo ma non durante l'arco della settimana ma magari una volta ogni 15 giorni io torno a ripetere la cosa che dico è vero che il tartufo è il diamante della cucina italiana perché è un prodotto nobile è un prodotto che anche in antichità lo apprezzavano in pochi però ecco usare il tartufo, consumare il tartufo a volte costa meno che usare molti prodotti che li usiamo abitualmente quindi va bene allora Ivo grazie per la disponibilità e buon lavoro grazie e al nostro pubblico buona serata e viva la vita c'è chi un giorno invece ha sofferto e allora detto io parto ma dove vado se parto sempre ammesso che parto e ha grigia la vita e la vita l'è vera, l'è vera a scadere l'ombrella, l'ombrella ti ripara la testa sempre un giorno di festa ciao